Catania dovrà diventare smart city, digitalizzata, ecosostenibile, collegata all'Interland, senza ulteriori colate di cemento se non quelle già approvate, come per esempio al Corso dei Martiri. Con più spazi verdi e un accesso sicuro e adeguato ai servizi, almeno secondo il nuovo piano regolatore che manderà in pensione quello di Luigi Piccinato di 50 anni fa. Le direttive sono state approvate dall'Aggiunta. Ora la parola passa al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva di quello che in un comune, in dissesto finanziario e sociale, sembra un libro dei sogni. Un progetto che dovrebbe tener conto non solo di scelte tecniche e politiche, ma anche dei bisogni dei catanesi. Chiede coraggio e una visione ampia del futuro l'Associazione Civica Città Insieme, a partire per esempio dal centro storico che va riqualificato. Il centro storico è una grande sfida perché è pieno di periferie, non solo edilizie ma anche umane, e ci sono grandi occasioni per poter dimostrare che Catania può cambiare, può rilanciarsi, perché sono immobili, luoghi, spazi abbandonati che possono essere riconvertiti in destinazione che vadano incontro alle esigenze. Pensiamo all'esigenza abitativa, pensiamo all'esigenza del rilancio turistico, pensiamo a certe vocazioni commerciali che sono sopite. Ci sono in centro storico tanti negozi di abbigliamento, bar, ristoranti, ma siamo sicuri che i giovani possano fare soltanto i commessi e i camerieri? È stato aperto un forum d'ascolto della città sul nuovo piano che, secondo il sindaco pugliese, deve essere definito entro il 2020. Adeguamento sismico di strutture pubbliche e private in una città in classe 2, mobilità integrata del trasporto pubblico su ferro e gomma laddove all'auto non si rinuncia. Riqualificazione del waterfront, più spazi verdi e meno cemento, anche se il progetto di Corso dei Martiri non si tocca. Salvaguardia del suolo e del patrimonio culturale e paesaggistico, housing sociale. Insomma, secondo le direttive del nuovo piano regolatore, Catania dovrebbe cambiare, diventare più vivibile ed ecosostenibile. Anche per questo si punterà al concorso di idee su scelte tecniche e politiche e sull'ascolto dei bisogni dei cittadini. È una città di mare ma che non può ammirare il mare, non può stare a contatto con il mare perché gli spazi di anche solo visibilità del mare sono ridottissimi. È una città lontana perché le persone, nonostante stiano in un pezzo di territorio abbastanza limitato, non possono spostarsi facilmente da un posto all'altro perché i mezzi non funzionano. È nato un forum gestito dal consulente del nuovo piano regolatore che punta su un paio di cose fondamentali. La cosa fondamentale che il piano dovrà fare è, a parte i temi della grande sicurezza sismica, idraulica e idrogeologica, affrontare e riannodare il sistema dei trasporti con lo sviluppo urbano. Esitate dalla giunta alle direttive, l'approvazione spetta al Consiglio Comunale. Il nuovo piano, secondo il sindaco Pogliese, dovrà essere varato entro il 2020, approvato poi dalla Regione.